Ben trovati a voi tutti, eccoci al nostro appuntamento con la voce delle istituzioni. È un vero piacere avere quest'oggi in studio con noi Andrea Ferrazzi, che è il direttore di Confindustria Belluno Dolomiti. Ben trovato direttore. Grazie. Grazie del tempo che ci dedica. Abbiamo tanti temi da affrontare assieme e una lista lunga di domande, quindi parto subito. L'evento ormai alle porte è lo Sport Business Forum. Abbiamo visto la città di Belluno che si è colorata a festa con le bandiere rosa per ricordare l'appuntamento. Ormai l'attesa è molto forte. C'è grande attesa e anche grande curiosità perché credo mai nella storia della città arriveranno in così pochi giorni. Grandi campioni del calipo di Franco Baresi, Enrico Sacchi, Daniele Massaro, Vanessa Ferrari, Filippo Magnini, la neocampionessa olimpica FAR. Insomma tantissimi nomi dei campioni dello sport che animeranno la città di Belluno nei prossimi giorni. Spieghiamo bene, magari per chi non avesse avuto modo di seguire, di conoscere questo evento. Di che cosa si tratta? Cosa vuole essere lo Sport Business Forum? Può essere un momento di confronto, quindi un festival come ce ne sono tanti ormai in diverse città del paese. Un momento di confronto, uno spazio di discussione sui valori e sul valore dello sport. Quindi i valori che lo sport insegna a tutti i livelli, dai giovani ai manager e poi il valore perché lo sport è anche economia. Non a caso è stato chiamato Sport Business Forum. Da cosa è nata questa idea? L'idea è nata dalla volontà di cogliere l'opportunità dell'Olimpia di Milano Cortina e quindi ci siamo chiesti che cosa potevamo fare per costruire un qualcosa che rimanesse anche dopo, quindi una grande legacy dei giochi olimpici. Ed ecco l'idea appunto di promuovere questo evento, ovviamente per valorizzare il territorio in tutte le sue eccellenze, per far conoscere il nostro territorio e comunque per creare un evento che sicuramente avrà anche delle ricadute economiche, perché ormai consolidato e dimostrato che i festival lasciano moltissimo sui territori anche in termini economici. Le stime dicono che per ogni euro pubblico investito la ricaduta è di 10-15 euro sul territorio, quindi come dire anche un'operazione economica oltre che di promozione culturale e di territorio. Ecco ricordiamo che i promotori siete voi, Confindustria Belluno Dolomiti, con Confindustria Veneto West e il gruppo Nord Est, quindi una serie di soggetti che credono assieme in questa progettualità. Assolutamente sì, ma poi i partner sono anche altri, la Regione Veneto, la Camera di Commercio di Treviso Belluno Dolomiti, la DMO che si è impegnata tantissimo perché ha colto l'opportunità e ha visto il potenziale di questa iniziativa, e poi le società sportive, le Dolomiti Bellunesi, la Pallavolo Belluno. Sono tante, è vero da elencare tutte. E' davvero stato un gioco di squadra e credo che raramente si è visto così tanti soggetti lavorare con un unico obiettivo che è quello di fare di Belluno, della città di Belluno, della provincia di Belluno, la capitale nazionale dell'economia dello sport. Ecco direttore, ancora una puntualizzazione, innanzitutto ricordiamo le date dall'11 al 15 di settembre, ma non sarà solo la città di Belluno protagonista? No, l'apertura sarà all'11 a Montebelluna, quindi nel cuore del distretto dello Sport System, quindi là dove vengono prodotti tanti materiali, attrezzature, scarpe, tessuti che poi vengono indossati dai campioni e da tutti gli appassionati dello sport, quindi l'11 a Montebelluna. Il 12 sarà la giornata di Longarone e la giornata dell'innovazione, con un calendario ricco di appuntamenti e anche lì avremo degli ospiti d'eccezione, Damiano Tommasi, sindaco di Verona ed ex calciatore professionista, la leggenda del volley Andrea Zorazi, quindi Zorro che ha vestito la maglia della nazionale e ha scritto pagine importantissime della storia della pallavolo in Italia e poi un nome dell'alpinismo come Marco Confortola. E poi ci saranno le start-up, tante start-up che proporranno soluzioni innovative nel mondo dello sport e le aziende, quindi Longarone sarà lo spazio dell'innovazione. Quindi questo a Longarone e Fiere, giusto? Quindi un rilancio anche della storica fiera? Sì, è anche un primo passo, auspichiamo perché questo diventi poi un appuntamento fisso, più strutturato, un vero e proprio appuntamento fieristico sul modello di altri che ci sono in Italia, dedicato però questa volta all'innovazione nel mondo dello sport che invece sarebbe un unicum. Quindi crediamo che possa essere anche un momento e un'opportunità di rilancio di Longarone e Fiere. Ecco, poi per concludere dal 13 al 15 gli appuntamenti in quel di Belluno e il gran finale a Cortina d'Ampezzo. A Cortina d'Ampezzo ovviamente parleremo di Olimpiadi, della ricaduta economica delle Olimpiadi e continueremo a ribadire l'importanza di questo appuntamento per il rilancio economico e sociale della provincia di Belluno. In particolare potrà essere un vero e proprio volano di promozione del territorio e se il territorio saprà essere propositivo sarà anche un'opportunità per iniziare a invertire il trend demografico che purtroppo sappiamo essere particolarmente preoccupante in modo particolare per i giovani. Certo, questa è la tematica che ricorre. Allora, tutti gli appuntamenti, il programma, lo diciamo naturalmente per chi ci sta seguendo, è fruibile sul sito sportbusinessforum.com e naturalmente si possono così appurare bene tutti i dettagli. Cambiamo argomento, direttore, perché questa è un'iniziativa ormai imminente, ma guardiamo quello che è stato, perché nella sede della LUIS c'è stata una nuova edizione della Dolomiti Summer School. Anche questa, direttore, una tradizione che ormai ogni anno cresce sempre di più. Sì, siamo alla terza edizione e è un momento di orientamento per i ragazzi delle scuole superiori, di terza, quarta, quinta superiore, per aiutarli a compiere una scelta consapevole del percorso universitario. Quindi portiamo sostanzialmente in aula i giovani che hanno l'opportunità di assistere a delle lezioni di medicina, piuttosto che di giurisprudenza, piuttosto che di economia, e così essere consapevoli di quali sono effettivamente i contenuti e quindi compiere una scelta più consapevole. I numeri ci dicono che chi frequenta questo tipo di iniziative riduce al minimo, se non a zero, ha il rischio di sbagliare scelta universitaria, il che significa perdere tempo e far perdere anche risorse economiche alle famiglie di appartenenza. Certo che il tema della formazione e delle competenze è un qualche cosa che abbiamo visto sta caratterizzando molto in questi anni l'attività di Confindustria. La Presidente Bertone, sappiamo, puntualizza continuamente l'importanza di questi temi. Assolutamente sì, sappiamo che la formazione, quindi la presenza di università e di business school come nel caso della LUIS, di poli di ricerca, di centri di ricerca e comunque di settori e di ambiti che lavorano nell'ambito dell'innovazione, sono due leve strategiche per rendere attrattivo un territorio. Queste ovviamente devono poi dialogare con le imprese e anche con le multinazionali. Ecco, mettere a sistema tutto questo e quindi creare quello che appunto viene chiamato ecosistema è un passaggio decisivo per i territori che vogliono essere attrattivi e competitivi nell'economia della conoscenza. Con questa visione stiamo cercando di portare sul territorio dei progetti concreti e coerenti. Appunto la LUIS Business School che ormai dal 2020 è attiva a Palazzo Bembo ma anche altre iniziative che stiamo, come dire, coltivando affinché diventino presto realtà. Ecco, fra le altre iniziative, direttore, ormai è anche il tema dell'Università di Verona, no? Deve dirci qualcosa in più su questo. Allora, lì si stanno facendo dei passi avanti. Sì, c'è un cauto ottimismo perché a settembre del 2025 partano i corsi, il primo corso di informatica quindi perché a Belluno, anche qua a Palazzo Bembo, ci sia una sede decentrata della Facoltà di Informatica dell'Università di Verona. Credo che questo sia uno dei progetti più importanti che l'Associazione sta portando avanti per le imprese ma anche per il territorio. Non solo per formare i giovani ma anche per supportare il tessuto industriale ed economico più in generale della nostra provincia in sfide epocali e penso soprattutto all'intelligenza artificiale. Peraltro con una peculiarità tutta bellunese, che credo sia un unico in Italia, di avere nello stesso luogo una business school e una facoltà di informatica che condivideranno oltre che degli spazi anche dei contenuti e questo credo che possa rappresentare un ulteriore valore aggiunto per il territorio. Ecco, un ultimo riferimento veloce per il tema delle competenze, poi cambiamo argomento, ovviamente lo dobbiamo dedicare anche agli ETS, anche qui abbiamo una variegata scelta, differenti possibilità per gli studenti bellunesi anche per questo percorso. Certo, gli ETS sono assolutamente delle opportunità formative per i giovani di primissimo livello perché sostanzialmente il 100% delle persone che li frequentano poi trovano lavoro addirittura prima di finire il percorso di studi. Il percorso di studi che ricordiamolo è di due anni, quindi due anni post diploma e quindi alternativa all'università e a Belluno c'è ormai da diversi anni l'opportunità di scegliere tra l'ITS meccatronica, l'occhialeria e poi il turismo. Senta direttore, parliamo adesso della ripresa del mondo del lavoro dopo delle fabbriche, delle nostre industrie e dopo la pausa estiva. Come sta andando questo inizio di settembre? I segnali sono un po' discordanti come lo erano anche prima della pausa estiva. Direi che l'elemento che forse unisce tutti è quello dell'incertezza. Ecco, sappiamo che la Germania non sta vivendo un momento brillante, anzi tutt'altro e questo sicuramente ha delle ricadute sull'Italia e quindi anche sulla nostra provincia. Il metalmeccanico tendenzialmente vive momenti un po' meno brillanti rispetto al passato con alcune situazioni anche magari un po' più difficoltose. L'occhialeria tiene e sembra tenere, ormai siamo verso il Silmo di Parigi e poi andremo verso il Mido. Lì il settore sta sicuramente almeno per ora tenendo. Quindi la grande eccellenza anche del Made in Italy, del nostro saper fare, dei bellunesi nell'ambito dell'occhialeria. Invece sempre su queste questioni, direttore, si allaccia anche al tema della residenzialità. Sappiamo che questa è un'altra grande partita che la provincia sta affrontando, il mondo degli industriali, Palazzo Piloni, sindacati. Insomma c'è una grande attenzione per una tematica che è ormai un'emergenza. È una vera e propria emergenza a Belluno come in tantissime altre città e province italiane. Come associazione ci siamo preoccupati di affrontare il problema. Abbiamo sviluppato un progetto che stiamo presentando alle aziende, sul quale non posso al momento sbilanciarmi. Certo che è una vera e propria emergenza perché è vero che stiamo lavorando tantissimo per rendere attrattivo il territorio, ma è chiaro che uno degli elementi di attrattività è proprio la disponibilità di abitazioni che al momento non c'è. Con il paradosso che abbiamo una percentuale altissima di immobili non utilizzati e dall'altra parte una richiesta di abitazioni, soprattutto di affitti, che non riescono a trovare soddisfazione. Questo è un problema ovviamente per le aziende che cercano personale continuamente, ma per esempio anche per i giovani che poi domani dovessero venire qui a Belluno a studiare. Comunque il problema ce lo stiamo ponendo e alcune idee, alcune soluzioni le stiamo, come dire, cercando di attuare. Ecco, continueremo naturalmente a seguirvi. Direttore, buon lavoro a lei e a tutto il suo staff. Grazie, grazie mille. E a tutti quanti voi che ci avete seguito, buona continuazione d'ascolto. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie a tutti.